Rai Storia omaggia la figura di Mario Marenco, morto il 16 marzo 2019, 85 anni. Un Mario Marenco che pochi ricordano, nel 1984 interpreta per la miniserie Rai diretta da Dino Risi e La vita continua, lo strampalato Arturo De Marchi, aspirante scrittore fallito. Ma Arturo ma è bellissimo, c'è uno stile, è una forza. Eh, sono contento che ti piaccia. Io non sapevo che scrivessi così bene. Sai, in prigionia si imparano tante di quelle cose. È un romanzo vero e i personaggi sono belli, pieni di contrasti. E come va a finire? Vedrai, vedrai. Ave pazienza Giulia. Questo deve essere Fasoli. Giulia, guarda di non dire niente a nessuno di questa faccenda. Lui che fu preobbinato da Fellini per La città delle donne, colpito dai suoi surreali personaggi televisivi, diede prova di saper fare anche l'attore nelle mani di un maestro della commedia come Dino Risi. 20 settembre 1958, una data che rimarrà storica tra quelle della imbecilità umana. Non stai esagerando, zio Arturo. Beh, non è poi un avvenimento così grave. I giovani ormai le trovano da soli, le ragazze. Ah, e tu credi che sia la stessa cosa? Ma queste case erano tutto per me. Sogno, tenerezza, calore umano. Tu non sai il nodo che mi saliva alla gola tutte le volte che prendevo il tram per venire qua. Ecco, io entro per dare il mio addio e tu vieni con me. Ma no, zio, dai, lascia perdere. Vieni, vieni Aldo, rimpiangeresti di non poterlo raccontare ai tuoi figli. Buongiorno, signora Maria. Foggiano, come l'amico e sodale Renzo Arbore, nasce il 9 settembre del 1933 e si laurea in architettura nel 1957 all'Università di Napoli ottenendo borse di ricerca a Stoccolma e Chicago. Raggiunge il successo nel 1970 con la trasmissione radiofonica di culto Alto Gradimento con cui inizia un lungo sodalizio con Renzo Arbore e Gianni Boncompagno. Buono, buono, buono. La realtà di questo è una figuraccia tremenda. Siamo davanti alle telecamere di Radio 1. Ignoriamo, ignoriamo. Alto Gradimento fu una trasmissione, come direbbe Minà, trasgressiva. Però mi pare che siete troppo trasgressivi, certo. Noi vogliamo soltanto ricordare alcuni personaggi. Dietro le quinte noi dobbiamo... Marenco. Dovevamo, diciamo, che dovevamo tenerci alto il morale e facevamo così, praticamente, come state vedendo. Per tenere alto il morale e riuscire ad essere sempre più impanti malgrado gli inevitabili guai della nostra vita personale. Amore. Questo è il suo sketch preferito. Una specie di lamento, com'è? No, dobbiamo dire che lui fa, da anni, una trovata, una cosa, una cretinata, che si chiama la calcolatrice umana, che non fa ridere nessuno. Mai. D'anni ci propone questa calcolatrice umana. Dico, ma è, facciamo qualche cosa di nuovo. Lui fa la calcolatrice umana. Dice, ma questa è fantastica. Noi diciamo, non fa ridere. Infatti, non ridiamo. Adesso, questa sera, si la fai. Però non fa ridere nessuno. Vedrai, non riderà nessuno. È proprio un regalo che ti facciamo, magari. Ma non fa ridere. Silenzio. Ma non fa ridere. Bene, ma perché? Vedi, non fare giusto Santa Flores perché è un pazzo. Telescrivente umana. Telescrivente umana. Justo perché stasera così però non mi... Questo signore che voi vedete vicino a me non è molto noto per il suo aspetto fisico, per la sua faccia, ma la sua voce invece è notissima. E' lui che ha dato vita alla sgarrambona, al colonnello Buttiglione, al Vinicio, al poeta e al professor Aristogitoni mi suggerisce gli annacci. E' vero? Sei proprio tu, Mario Marenco, grafico, bellissimo, applauso. Tu sei un'azienda, tu sei la nostra azienda, cioè noi non siamo i proprietari dell'azienda, noi siamo impiegati, noi siamo condannati nell'azienda dove noi siamo entrati un giorno anni fa e da quel giorno ogni mattina noi entriamo in te o nostra azienda. Dopo l'esordio televisivo né il buono e il cattivo, trasmissione del 1972, continua il suo delizio con Grenzo Arborene l'altra domenica, dove è Mr. Ramengo, un surreale inviato. E noi andiamo avanti con il nostro programma, ahimè purtroppo l'annuncio è dolorosissimo, quando devo fare questo annuncio alla nazione mi viene una specie di cosa, perché è l'annuncio di Mr. Ramengo che oggi dovrebbe festeggiare con noi un avvenimento che ci riguarda un po' da vicino, noi della RAI, ma che riguarda quindi anche il pubblico italiano nella sua quasi totalità. Mr. Ramengo, se ci sente, batta un colpo e ci dica dove sta e perché sta là. Mr. Ramengo, ecco. Vecco Mr. Ramengo che vediamo inquadrato, ah caro Mr. Ramengo, sta facendo il solito allenamento col participio passato mi sembra. Siamo di fronte al palazzone della RAI. Perché siamo di fronte al palazzone della RAI? Per rimirare l'enorme deretano stonante. No, no, assolutamente no. Di questo camamaccio. Assolutamente no, lei non riesce ancora. Siamo di fronte al palazzone della RAI perché oggi è 25 anni che esiste la televisione in Italia e quindi vogliamo festeggiare così l'avvenimento che ha modificato perlomeno il corso della vita di tanti italiani. Di fronte a questo palazzone della RAI, quasi un ministero dal quale la pubblica istruzione, dal quale i bambini imparano chi è Cappuccetto Rosso, Pippo Paolo e i Santana. Ah beh, una funzione educatrice appunto della... Mentre i loro padri, funzionari della RAI, si lamentano la sera dalle mogli perché hanno lavorato duramente. Alcuni loro padri, cioè quelli che per combinazione sono anche funzionari e impiegati della RAI. Lo sforzo invece viene compiuto dalle segretarie davanti alle calcolatrici e macchine da scrivere, buttando e sputtacchiando sangue e alcuni polmoni tutto il giorno per permettere ai loro capi di farsi le scarpe gli uni con gli altri. A sto punto lavorano le segretarie? Eh già. Ha proprio da sputtare sangue? Sì. Mentre i loro capi... Passano le giornate al bar e si fanno le scarpe gli uni con gli altri tutto il giorno. Beh, queste sono sue considerazioni assolutamente personali. Noi non crediamo... Questo enorme palazzone, ci sono già 300.000 dipendenti. Ehi! Una buona percentuale della popolazione romana. Ne rimangono ancora sui 3 milioni, forse altri 2 milioni e mezzo che a furia di raccomandazioni, chissà come, saranno assorbiti. Guardi, mister Camengo, che lei sta dicendo delle cose... Rimangono però ancora i cittadini italiani, altri 55 milioni, i cittadini... Non assunti dalla RAI, vuol dire. Da assumere. Come da assumere? Un bel giorno verranno tutti assunti, allora si affoleranno qui in 60 milioni. Ehi! Per mancanza di posti di lavoro e di tavoli, tutti assiepati in piedi e con tetto di gomito. Veramente. Tutto, atto. Mentre chi rimarrà a lavorare i campi, chi rimarrà a fare il buon vino, chi rimarrà a mietere il pane. A mietere il pane, mister Camengo, come? Dio solo lo sa. Mentre qui dentro, visto che non arriveranno più derrate nei generi alimentari perché nessuno coltiva più i campi, la gente comincerà a morire come mosche. Ma questo è una... E questo enorme eccidio rimarranno forse in alcune centinaia di superstiti che accortisi dell'inedia dovranno correre di corsa nei campi a coltivarli per produrre il cibo per il loro sostentamento. Noi ci sembra una visione assolutamente apocalittica, cioè questa Rai dipinta come un enorme piora che assorbirà poco a poco tutta la popolazione italiana fino a farla scomparire. Nel 1960 apre un atelier di architettura e design, lo studio D E G W. In veste di architetto e designer compare in alcuni programmi televisivi. Io volevo vedere invece l'architetto, l'architetto Marenga. Questo avevamo già detto di non tirarlo in ballo in questa sede, no? Invece noi abbiamo addirittura preparato delle fotografie di cose tue, tu sei un architetto, sei un designer anche piuttosto noto. Molti solo in questa occasione avranno modo di collegare i nomi, i nomi dell'umorista della radio e dell'architetto, del designer. Ecco qui la regia sta mandando in onda la fotografia di un... Il divanoletto Automat è un progetto che è stato affrontato due anni fa, è stato svolto con l'ingegnere Piero, che è un mio caro amico. Ci abbiamo battuto la testa per due anni e abbiamo tratto fuori questo che appartiene alla famiglia dei convertibili, cioè le cose che, come le chiamano gli americani. Abbiamo ancora delle altre fotografie di oggetti inventati da te? Ecco qui tu hai appoggiato prima qualche cosa che io ho provato a capire che cosa fosse, ho tentato ma non ci sono riuscito. Beh quello è un giocattolo. Ecco, però... Potrei farlo in grande e sarebbe una scultura. Me lo puoi spiegare un po', io non ho capito bene. Ma io un tempo giocavo a scacchi e allora ho cominciato a pensare di fare una scacchiera compatta e allora la scacchiera compatta è compatta quando è come prima, ma non è compatta, cioè diventa distesa e ci si può giocare a scacchi quando è così, no? Poi se si piega, tutto quanto diventa il solito vecchio caro cubo che i cubisti, eccetera, no? Veramente divertente, divertentissimo. Nel marzo 1977 Tg2 Odeon dedica la doppia vita di Mario Marenco in servizio Le Follie dell'architetto. Quando che io mi andai a falciare il barbo, lo barboniero... A tagliare la barba! Traduzione, quando che io andai a tagliarmi, non a falciare la barba. Lo barboniero spingio... Ha paura dei pescicani e di dormire al buio. Socio ACI. Da vent'anni lavora al progetto di una nuova racchetta da tennis. Qui c'è il problema, non rientriamo nello standard di 9 metri quadrati abitanti. E vabbè, cioè ci vuol... bisogna reperire più spazio. Ma uno, due, tre, quattro lampioni si tolgono. L'asta della bandiera si toglie. I pali della rete di pallavolo si tolgono. Poi cinema no? Ah no, questo sta all'altra parte della strada. No, il cinema sì, non è che viene costruito, è solamente la scritta. I negozi? Allora, questi sono i negozi nostri. Talvolta i due ruoli, quello del tecnico e quello dell'umorista, si incrociano. A mezzanotte di solito. È il momento in cui nascono i suoi personaggi. Urlo dello sciacallo triste. Urlo dello sciacallo triste. Ha disgraziato! Si apporano da Bartolotti! A mezzanotte di solito. Pronto? Qui è il caso Cicerchia? Chi parla? Come si chiama? Cicerchia, chi parla? Qui se ne fuete di Cicerchia. È necessario che mi aiuta con la base spaziale. Ma chi è? Ma lei chi è? Questo è il velivolo spaziale, capsula Paloma II. Paloma II. Paloma II, astronave spaziale. E chi vuole parlare? Con chi vuole parlare? Io sono partito di Madrid, 8 anni. E questo è criminale. 8 anni? 8 anni? E cosa fa da 8 anni? Volo volando tutto il tempo di Cosaco, amico. E sto rovinato. E sto volando capovolto. Usted è necessario che si dà una reguata, amico. E dica come si chiama? Cabrones, fornudones, locos, disgraziados, bastardones. Ma cosa dice lei? Lei non è un astronauta? Esos puertos, disgraziados. Ha capito? Disgraziados, locos. Allò? Olè? Allò? Allò? Senti Mario, ma tutte le volte che tu provi un personaggio, devi disturbare i vicini. Eh no, ma io sai, bisogna anche per entrare, bisogna immergersi nella realtà. Così viene estratto il mail, quello autentico. Marenco entra nel cast del film Il Papocchio, 1980, diretto da Renzo Arbore, una reunion di tutti i protagonisti dell'altra domenica. Che schifo di battutaccia, si dice che battuta, sembra che sia anche buona. Lui dice che schifo di battutaccia, carri, sto peggiorando sempre di più. Guardando di più. Poi qui sentirei una voce che dice stop, quello sono io che ti dico. Allora? Senti Mario, ma tutti i protagonisti del film Il Papocchio, 1980, diretto da Renzo Arbore,